Questo programma è offerto da Tecnocampus Lunedì 6 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche in questa nuova settimana con la rassegna stampa Che come sempre è offerta da Tecnocampus E in questa giornata tanti fatti in primo piano Tanti fatti che riguardano tutti i fatti dell'attualità, della politica Ma anche lo sport, soprattutto nazionali Ma anche nel particolare sulla nostra bella città di Caserta Ma li vedremo tutti un passo dopo l'altro E ovviamente sempre con un'informazione a 360 gradi Con una critica che comunque sarà sicuramente costruttiva Ma cominciamo a vedere subito i fatti Lo facciamo questa mattina con il Corriere della Sera E partiamo dall'alto Che vediamo proprio nella parte alta Lo sport a Trieste Il ruandese Noel vince la gara delle polemiche E dice lasciate correre tutti E ancora vediamo nella parte alta della pagina La politica, il governo nel caos Insulti tra gli alleati Salvini Tappatevi la bocca, ultimo avviso E questa è infatti la verità La Lega boicotta il programma di Fazio Nessuno di noi va finché non si riduce lo stipendio Che i rapporti tra 5 Stelle e Lega siano tesi Si sa complice anche l'avvicinarsi delle elezioni europee del 26 maggio Ormai ci siamo Ma ora le polemiche all'interno della maggioranza giallo-verde Si sono alzate di un ulteriore tono E sono arrivati gli insulti Anticipazione di un Consiglio dei Ministri sul caso Siri Che si preannuncia non certo facile per il Premier Giuseppe Conte I pentastellati accusano Salvini di non avere coraggio Le parole sono un po' ruvide Che replica? Tappatevi la bocca E la Lega boicotta il programma di Fabio Fazio E ancora l'intervista al procuratore uscente di Roma Pignatone I politici usano le inchieste Mercoledì il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone Lascerà il suo incarico La politica dice affida ai giudici problemi etici che non risolve Intanto bilancio di fine carriera Il suo l'Italia è un paese in cui si usano le indagini per delegittimare gli avversari Questa è un'accusa davvero importante che viene rivolta a tutti i politici Ovviamente questo è quello che viene raccontato da un magistrato a fine carriera E ovviamente questo lascerà sicuramente un segno importante Intanto come abbiamo visto la politica continua ad avere le difficoltà serie di un governo Composto da due vice premier che si scontrano a quanto pare sempre più su tutto E ancora in primo piano la vicenda a Siri ma soprattutto quello che verrà E continuiamo ancora a vedere che cosa racconta nell'editoriare questa mattina Paolo Mioli i 5 Stelle travestiti da sinistra Voto e strategie Apparentemente quelle tra Di Maio e Salvini Sono nient'altro che insopportabili schermaglie Baruffe litigi in vista delle elezioni europee Oltretutto in un gioco delle parti In realtà quel che accade giorno dopo giorno sul palco della politica italiana È invece l'effetto di una interessantissima campagna elettorale Con la quale il Movimento 5 Stelle forse in ritardo sui tempi Sta provando a rimontare una debacle annunciata E ricordiamo prima di analizzare la strategia Che le elezioni europee sono tra le più sfavorevoli Al movimento fondato da Beppe Grillo Il quale sostanzialmente non ha nulla da dire sull'Europa E dà mostra di confusione di idee sull'insieme della politica internazionale Questo appunto è il commento che ne viene fatto proprio questa mattina dal Corriere della Sera Sembra che questa corsa verso le europee rappresenti un ostacolo insormontabile Almeno secondo il racconto che ne fa il giornalista in questa mattina Proprio per i 5 Stelle Ma la situazione ovviamente la vedremo passo dopo passo Sicuramente ci troviamo di fronte a un teatrino Uno spettacolo di quelli probabilmente ben artefatti Ma anche questo sicuramente è qualcosa di cui ci renderemo conto nel tempo Poi intanto nella parte centrale della pagina guardiamo cosa accade in Medio Oriente Più di 650 colpi dalla striscia Gli Stati Uniti con l'alleato Diritto all'autodifesa Gaza-Israele ore di battaglia Razzi palestinesi L'esercito risponde Oltre 20 morti Quattro sono nello Stato ebraico L'escalation di violenza infatti tra Israele e Gaza non si ferma Restano inascoltati gli appelli della comunità internazionale I tentativi di mediazione per tutta la giornata di ieri sono continuati i lanci di razzi di Hamas Nelle zone israeliane attorno alla striscia di Gaza E i bombardamenti israeliani su Gaza Il bilancio 4 israeliani uccisi, 17 i palestinesi Tra questi anche secondo l'intelligence un uomo di collegamento con l'Iran E intanto la via stretta di Netanyahu E nella parte centrale della pagina ci spostiamo a Napoli Il figlio di un malavitoso al corteo per la bimba ferita E dice amo mio padre boss ma da oggi lo rinnego Questo è un attacco forte ma sicuramente una presa di posizione Che ha lasciato tutti i sgomenti ma che soprattutto rende la voglia di cambiamento Che ormai coinvolge sempre più i napoletani Dopo il ferimento della bimba avvenuto un paio di giorni fa Noemi ormai siamo tutti con questa bimba La conosciamo quasi come se fosse una nostra vicina di casa La conosciamo talmente bene che preghiamo tutti quanti Affinché proprio la bambina riesca a tornare a giocare insieme ad altri bambini come lei Perché questo veramente non debba mai più accadere Perché non si è mai visto E adesso si sta ripetendo troppo spesso Che i bambini siano vittime proprio di tanta tanta violenza E ancora vediamo che cosa racconta questo giovane Napoli contro la camorra in piazza anche il figlio di un malavitoso Amo mio padre ma non lo stimo Dai nostri genitori una vita impossibile Intanto spunta il video dei killer Che è il killer che spada pregiudicato e ferisce la bimba di tre anni Ovviamente questo lo vedremo nei particolari dopo Ma intanto vediamo che altro accade in Italia Lì in Italia il tempo sembra veramente cambiato Sembra non voler arrivare alla primavera Maggio ci sta raccontando una storia diversa da quella da cui siamo abituati Noi siamo abituati a vedere giornate di sole Primavera quando piove a vedere quel minimo di pioggia Che poi ci lascia spazio per un sole ovviamente caldo E invece a quanto pare questa primavera si sta presentando in maniera totalmente diversa Sicuramente inaspettata E infatti tempeste e neve a maggio come in inverno Un morto intanto e un disperso Un maggio che sta di novembre almeno ieri Quando neve anche a bassa quota e raffiche di vento Hanno spazzato l'Italia da nord a sud Morto un surfista a Marsala Disperso un pescatore sul Mincio E bufera sul lago di Garda E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano Ci spostiamo sulle altre testate nazionali Che questa mattina raccontano come sempre i fatti Senza però lasciare spazio all'immaginazione Ma la lasciano soprattutto a quelle che sono le notizie Lo vediamo col Fatto Quotidiano E vediamo proprio nella parte alta Mentre Fazio tratta con la Di Salini La riduzione del compenso blindato dal contratto Il presidente Foa e Salvini gli intimano lo sfratto Che coincidenza E intanto nella parte alta della pagina Alla svolta ai nomi della rogatoria inviata al Cairo dalla Procura Agenti politici 007 I PM di Roma sanno chi ha ucciso Regeni E questo anche è un elemento importantissimo Ancora oro nero Inchiesta media part sullo scontro tra USA e Iran L'embargo di Trump strangola Teheran E favorisce i radicali E nella parte centrale della pagina Eccoci qua gli scandali Stasera il report della casa da mille metri quadri a Bresso Milano Intestata alla figlia Stiamo parlando di Siri L'ultimo mistero Acquista palazzo con soldi da San Marino E infatti il giallo del mutuo da 585 mila euro Senza garanzie per una palazzina Comprata a gennaio di due piani Con sette appartamenti Negozio, laboratorio e cantine La provenienza dell'ex paradiso fiscale Con tasse agevolate induce il notaio a segnalare un sospetto riciclaggio Pensate un po' alla UF di Banca Italia E ancora vediamo quindi che continuano ad essere sempre più le inchieste che riguardano Siri Intanto vediamo ancora a primo piano Bici in salita Il giro d'Italia al via Ma siamo fuori dal podio E si va verso il voto Lega all'assalto di Modena Bastione Rosso E nella parte centrale della pagina Professione complottista I seguaci della terra piatta In Italia migliaia di adepti E domenica prossima si riuniranno a Palermo Ecco chi sono i seguaci del disco terrestre Che vogliono svelare il grande bluff del globo Nonostante dal VI secolo a.C. Si sa che il nostro pianeta è tondo E ovviamente la storia racconta fatti che sembrano sempre più divergere Fino a un certo punto della nostra esistenza Della nostra storia si è creduto appunto che il mondo, la terra fosse piatta Finché non ci si è resi conto che non era una situazione così conclamata Ma era quanto impossibile Adesso invece ci sono i fautori proprio di questa teoria Che continuano ad essere sempre in numero crescente E soprattutto a continuare a credere che questa sia la realtà E intanto dalla Fontana dei Trevi Oggi Totò vende i treni volanti Insomma si passa al futuro Guadagni facili ma con il rischio Infatti anche in Italia arriva Skyway Società con testa in Bielorussia E Cassaforte ai Caraibi Che promette l'auti guadagni a chi finanzia il trasporto del futuro Il fatto ha partecipato ai meeting promozionali All'interno di queste pagine appunto il racconto Intanto nella parte bassa della pagina Scusate eccoci qua Patrimonio sfregiato Torre sul Monumento L'ospedale dei Bimbi dei Turpa Le storiche mura di Padova Le cose belle lo sono meno se fuori posto La perfezione dipende dalle convenienze E le convenienze dalla ragione La sentenza del grande moralista del 600 francese Jean Del Bruret si adatta a meraviglia Al controverso caso della nuova pediatria dell'ospedale di Padova Perché nessuno ha dubbi sul fatto che pediatria sia una cosa bella Ma è poco conveniente costruirla su un nodo nevralgico alle mura della città E ancora Faki Diet Il libro dell'attrice comica Duner Addio alle privazioni La dieta migliore secondo questa comica E mangiare troppo Insomma viene rivisto tutto ciò che riguarda la nostra alimentazione Ma soprattutto un'alimentazione sana e equilibrata Ma ovviamente questo è tutto da vedere Visto che viene da una comica chissà che non ci voglia semplicemente far ridere Ma se in realtà dovesse essere così ci farà soprattutto piacere E ancora vediamo gli altri fratti In primo piano ci spostiamo sul libro Il brivido della realtà Il riscaldamento del pianeta Ma se fa freddo Neve in montagna e a Milano minima a 5 gradi Il termometro smentisce i gretini nostrani E con la scusa della sete nel mondo Movimento 5 Stelle vuole alzare le tasse anche sull'acqua E intanto posto per mattino Soldi si guai Nessuno vuol più fare il sindaco E anche questa è una realtà che sembra sempre più evidente E nella parte centrale della pagina Dopo il taglio di province parlamentari Chiedono quello del Cnelli Grillini odiano Renzi Adesso invece lo imitano E intanto vediamo nella parte destra della pagina Il sonnista Tremonti Che prima non si sente italiano Non potrà mai essere europeo E da Napoli invece Napoli ovunque Basta vale la violenza è diminuita Insomma dopo tutto ciò che abbiamo visto in questi giorni Sembra che la realtà racconti fatti diversi O almeno quello che viene detto da questa prima pagina di Libero La violenza è diminuita Chissà sicuramente Quello che abbiamo visto non rappresenta una bella cosa E ancora vediamo Enrico Mentano Ecco perché l'ordine attacca tanto Libero Se le idee non le sintetizzi Le espressioni chiare e certe Chi sei e nessuno se le ricorda E poi come fai ad arrivare a chi non ti legge Insomma questa è una delle domande che si pone questo quotidiano E nella parte bassa della pagina Eccoci qua Vi spiego come mai vengono i capogiri A quanto pare secondo la ricerca Ne soffre una persona su due E intanto ecco qua anche altri argomenti Per quanto riguarda la salute L'anoressia ora può essere pure sessuale Quelli terrorizzati dai rapporti Insomma adesso vengono utilizzati termini Probabilmente poco consoni Ma sicuramente rappresentativi di una realtà Che sembra essere sempre più diversa Da quanto ci aspettiamo E adesso io vi lascio a qualche momento di pubblicità Giusto per farvi riprendere un po' fiato Ma non temete Ritorniamo subito dopo E mi raccomando Non andate via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti All'incrocio tra Caserta e il futuro E' nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta E' collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Lunedì 6 maggio Siamo sempre a Teleprima Ma e soprattutto siamo sempre in onda con la rassegna stampa Come ogni mattina offerta da Tecnocampus E questa mattina continuiamo a vedere le testate nazionali E a quanto pare Come ogni giorno diciamo Twitter, Facebook, social network Sono diventati il nostro metro di giudizio E soprattutto il nostro modo di vedere la vita E adesso espressione di questo nostro modo di vedere la vita Vediamo che il giornale ci racconta una storia Che sicuramente non ci farà molto piacere Ma che sicuramente non appare nuova Infatti la truffa dei politici in rete Falsi 7 follower su 10 E questo è il dossier che viene presentato da questa testata I 5 stelle spiccano per profili farlocchi Il record per Grillo e Renzi Di Maio e Salvini Pensate un po' Oltre il 60% di fake Ecco come fanno E infatti più della metà dei seguaci di Movimento 5 Stelle Sui social network sono finti E il sito Spark Toro A rivelare che tutti i leader hanno finti amici Purtroppo il record è per Grillo Poi Renzi, Zingaretti, Meloni, Di Maio, Salvini e Conte Alla faccia della trasparenza Dice appunto il giornale Infatti secondo questa testata Ovviamente visto che ormai vince chi ha più follower Non si salva nessuno E intanto vediamo il consenso truccato L'incapacità manifesta E questo è il vero cambiamento Che racconta Alessandro Sallusti questa mattina E intanto nella parte centrale della pagina L'attacco del presidente Foa Noioso e guadagna troppo ovviamente La Lega e Rai contro Lo Fazio E il riferimento è proprio a lui E intanto Oggi Matteo In giro per la Campania Tra gli altri posti che visiterà anche Pietrelcina Guerra Santa con Conte Salvini gli scippa Padre Pio Insomma questo racconta oggi il giornale E intanto vediamo nella parte centrale della pagina Caso Siria Il fantasma della crisi Rissa il governo Insulti da Barri Movimento 5 Stelle E leghista Tappatevi la bocca Ultimo avviso E intanto la caducazione E quel lessico DC del Premier L'analisi che viene fatta di questa situazione E la pioggia di tweet feroci Causa la difesa Anche i generali contro la ministra Trent E intanto vediamo nella parte destra della pagina Come fare 7,30 e pagare meno tasse Secondo l'economia riportata appunto dal giornale E intanto razzi di Hamas Israele si difende Se ne accorta perfino l'Unione Europea E nella parte bassa della pagina Eccoci qua Fossile da Guinness In un deposito a Matera La balena Chiusa fra i sassi E intanto lo sport Un'Atalanta inarrestabile Dea guerriera verso l'Europa Lazio battuta per 3 a 1 E ancora continuiamo a sfogliare Le prime pagine dei quotidiani nazionali Vediamo il tempo Che questa mattina racconta una storia Che ovviamente va in controtendenza Infatti anche il tempo si è rotto di Greta Effetto Serra? No Invece del riscaldamento Ci troviamo a maggio con un giorno globale La climatologa accadeva anche in passato Quella ragazzina è pilotata ed esagera Ovviamente anche questo sicuramente è qualcosa di troppo messo in evidenza Ma sicuramente qualcosa c'è in questa situazione Ovviamente perché quando una ragazzina si presenta davanti a tutti E viene portata in giro come fautrice di un movimento Subito scatena le polemiche E anche in questo caso c'è sicuramente una polemica in atto Ancora vediamo nella parte centrale della pagina Roma e Lazio In due non fanno una difesa E nella parte più bassa Siluro Movimento 5 Stelle alla Lega Si vende la sede di Casa Pound La grillina Castelli Vuole sgomberare e cedere il quartiere generale del movimento di destra Vicino a Salvini E ancora Tagliani lancia l'idea a rosa Segretario donna per Forza Italia Big azzurre in fermento E nella parte bassa della pagina L'attrice sommersa dei debiti Vivo solo grazie all'aiuto degli amici Drama Milo sono sull'astrico E ci domandiamo tutti come sia accaduta una cosa del genere Intanto supercontrolli nel weekend Nuova stretta sulla Movida Sanzioni per 45 mila euro E intanto brutale rapina al pigneto Aggredito da tre emigrati Ammorsi e pugni in faccia La violenza sembra non avere più distinzione Ma soprattutto sembra sempre essere più in aumento E cominciamo ancora a vedere le prime pagine quotidiane nazionali Passiamo alla Repubblica Noemi, quattro anni Napoli in piazza per lei La città sfida i boss sul luogo dell'ultimo agguato La bimba è sempre grave Caso Siri, 600 mila euro sospetti da San Marino Per la palazzina della figlia Insomma, in primo piano appunto la vicenda che è accaduta a questa bimba di Napoli La scorsa settimana E che racconta di una lotta tra la vita e la morte Ma soprattutto all'ultimo respiro Insomma, questa è la rappresentazione di questa prima pagina Di quanto sta accadendo in queste ore Ma soprattutto di quello che è lo specchio Di una politica troppo spesso caotica E ancora vediamo le altre notizie In primo piano Se il governo sceglie l'assenza Dice questo è il risultato E PD solo uno su dieci vicino ai 5 stelle E ancora fazio bersaglio politico I soldi c'entrano poco E intanto nella parte destra Eccoci qua il processo di Mimo Lucano E quello del suo giudice L'ex sindaco, io umiliato e sfinito Il procuratore, non dormo la notte E intanto il relitto del disonore Sbarca alla Biennale Ed infine nella parte bassa della pagina Noi diventati cittadini per merito della storia E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani Vediamo il messaggero questa mattina all'Unione Europea Manovra severa in autunno Domani le previsioni della Commissione L'Italia è a rischio Procedura per il debito Nessuno sconto sulla prossima legge di bilancio Ma il governo diviso aspetta il voto E intanto Movimento 5 Stelle La Lega faccia di mettere Sirica Roccio Ora tappatevi la bocca Altra indagine Sottosegretario Querela E ancora rischio escalation Come nel 2014 Stiamo parlando ancora una volta di Gaza Massa ha lanciato 700 missili Israele dopo i raid Manda le truppe E da Roma Sfida sul Salva Roma Meloni avverte Salvini Rispetti la capitale Il leghista Campidoglio serve Efficienza Non soldi alle camere Fratelli d'Italia Pronti ad appoggiare il testo del Movimento 5 Stelle E intanto L'assalto Lombard Serve visione La città non diventi uno scalpo E ancora vediamo Il mattino Quest'oggi Che cosa ci presenta in primo piano Vediamo subito Le notizie in breve Nella parte alta della pagina Maggio pazzo Le montagne russe Della temperatura È tornata la neve Poi i venti africani Insomma Un cambiamento dietro l'altro Che probabilmente Susciteranno in noi Tanto disagio Visto che ancora Non riusciamo Ad ambientarci In questo clima pazzo E intanto La Kermess globale Biennale di Venezia L'arte contemporanea Finisce nel labirinto E la serie tv Giorgio Cluney Con Catch 22 Prendiamo in giro La guerra E nella parte centrale Della pagina Proprio la notizia Del figlio del boss Rinneghiamo I padri boss Intervista al figlio Di un capoclan Ci hanno reso la vita impossibile La camorra fa schifo Il calvario di Noemi Processione a Santo Bono Mattarella Domani in città In stretto contatto I figli del boss I figli del boss Di camorra Devono rinnegare i padri A dirlo è Antonio Piccirillo 23 anni Figlio del capoclan Della Torretta La criminalità Spiega al mattino Mi ha sempre fatto schifo I nostri padri Ci hanno reso la vita impossibile Intanto a Santo Bono Continua il calvario Di Noemi Anche il presidente Mattarella Domani a Napoli E che adesso È in stretto contatto E ancora vediamo Don Tonino Palmese Disarmate Napoli Questo è il colloquio Che viene fatto Da questa testata E intanto il documento Ecco il video shock Dell'agguato Il killer scavalca la bimba E spara come se non fosse nulla E intanto È una guerra Non basta schierare più agenti Questo è il commento Che viene fatto Da Sales Napoli E da decenni La città italiana È più esposta Su fronte della violenza criminale Qui le bande di camorra Hanno fatto più vittime Negli ultimi 20 anni Di tutte le altre criminalità Di tipo mafioso Messe insieme E ancora arriva l'ERT L'ultima legge Che schiaccia le imprese Nella parte centrale Della pagina Gli azzurri vincono Con Insigne A novantattesimo Lorenzo Voglio restare Un brutto Napoli Sorride solo Su rigore Insomma Il Napoli Si è svegliato Dopo il gol Dell'ex Pavoletti E ha ribaltato La partita Contro il Cagliari Con l'aiuto Del Vare E di Insigne Che ha chiuso Nel migliore dei modi La settimana Del chiarimento Con De Laurenti Si è Ancelotti Il suo rigore Al novantottesimo Dopo le vibranti proteste Dei Sardi Consegna agli azzurri La certezza Del secondo posto Intanto Dall'Unione Europea L'allarme L'allerta all'Italia Manovra dura O arriva la multa Domani in estime Della Commissione Europea Pilli in calo Il deficit Sfiore ai piani Il debito sale Ma vediamo Qual è il roscena I malumori nascosti Dei leghisti Del nord Troppa cura Del sud Finora abbiamo detto Il contrario Ma a quanto pare Tra nord e sud C'è sempre Chi si lamenta E non c'è mai Una convergenza Di intenti E ancora Le idee Nella parte bassa Della pagina Povera scuola Se la pieta Se è solo Per i prepotenti E intanto Continuiamo ancora A sfogliare Le testate nazionali Vediamo che cosa Racconta Il resto del Carlino Salvini Ultimo avviso a Di Maio Mi metto Cinque stelle In pressing Per Siri La replica Tacete o si chiude E intanto Il tempo Anche reclama Ma che freddo fa E infatti Gelo artico Tardivo Come nel 1957 Bufera E mareggiate In mezzo Italia Tanta neve Su Alpi E Appennini E intanto Il viaggio nei Balcani Il Papa Sofia Aprite le porte Ai migranti E il monto A massi fermi Gaza Israele Tra razzi E raid Ormai E guerra E intanto Il lavoro portato Nell'ufficio A quanto pare Molti Se lo mettono Semplicemente Nello zaino E grazie a questa alternativa Possono lavorare Davvero ovunque Da un lato è positivo Da un altro lato Forse Propriamente positivo Non sembra essere Ma voi che cosa ne pensate Lavorare da casa E piacevole Oppure no Che cosa ne pensate Raccontatecelo Sulla pagina Di Teleprima E vediamo Intanto Nella parte bassa Della pagina Killer 5.000 euro Il 43,8% Degli italiani Non arriva A 15.000 euro I più ricchi Sono il 5% Dei contribuenti E intanto Il confronto Ocse Il numero di famiglie Con un reddito medio È calato Quasi ovunque Negli ultimi 30 anni Spagna A meno 9,4% Germania A meno 5,8% Olanda A meno 5% Italia Pensate un po' A meno 3,9% E ancora Scendiamo Su questa prima pagina Lega e Pidingara Per gli indecisi Sondaggio sul voto Dell'Unione Europea 20 giorni Dalle elezioni Ancora senza scelta 8,6 milioni Di italiani Tra gli incerti Più donne 66% Gli adulti 41% Ed europeisti 55% Insomma Sarà Secondo questa testata Un vero e proprio Test nazionale E ancora Vediamo le altre notizie Il Tribunale E imprese Teme Class Action E nuovi fallimenti E intanto La corsa al 5 per mille Ma la dote A quanto pare Non basta E ancora Ci spostiamo adesso Su altre testate Ma questa volta Però cambiamo Proprio genere Vediamo Che cosa racconta Questa mattina Lo sport Tutto made in Italy E vediamo che Per il Corriere Dello sport E tentazione Allegri Ora il PSG Attende L'esito Del vertice Agnelli Max E infatti Dice Parigi Valvene Una messa E quindi Una preghiera Da Ovviamente Da parte Di Gregory Tuchel Che ha spaccato Internamente Il PSG Che è finito Sotto la lente D'ingarniandimento E la domanda E la domanda è Resta oppure no Intanto pronta La mega offerta Al tecnico campione Se l'incontro Con Andrea Dovesse portare Una clamorosa Separazione Alla Juve C'è chi spinge Per riportare Cotte a Torino E scendiamo Ancora Su questa prima pagina Roma Scapoccia Ranieri fallisce L'allungo Inutile 1-1 Ammarassi Gasperini Travolge la Lazio Per 1-3 L'Inter E ha un punto E Corsa Champions Il Genova risponde al gol Di El Sharawi Mirante Para un rigore Inzaghi In vantaggio Poi l'Atalanta Di Laga Stasera Il Milan Può agganciare Il Giallorossi E intanto Bergamo Alta Roma Bassa E così fu La Lazio Le ha prese Dall'Atalanta E senza scansarsi E a quanto pare Detesto Questo genere Di sospetti Nel secondo tempo E stata messa sotto Quasi brutalmente Intanto Vediamo ancora Nella parte bassa Rigore di insegna Al 98esimo E Napoli Rimonta L'Ira Del Cagliari E anche i tifosi Però non sono Proprio felicissimi Intanto Vediamo I guai in gol Sarri vola Virtus Gioia D'Europa Basket La Champions Va a Bologna Punter Stende Tenerife Dedicata A Pucci E intanto Team SIC 58 Che trionfo Doppiete in moto 3 Moto 2 Baldassari Ok Marquez Vola a Gerez Podio tutto spagnolo E sempre Per quanto riguarda Lo sport Tutto sport Pazzesca Atalanta Subisce il solito Gollo in avvio Poi ribalta Lazio Con solido Il quarto posto E si porta A un solo punto Dall'Inter Terza A Zingonia 4.000 tifosi In delirio Accolgono la squadra E la portano in trionfo Intanto Vediamo nella parte centrale Vertice Allegri Agnelli Doppio E intanto Clamoroso Retroscena Belotti 2022 Infatti Vediamo Niente Champions Per lo United Si allontana Da Manchester E la Juve Pronta All'assalto finale Per Battle Royale Giorni decisivi Anche per Rabiot Mentre la squadra Invece E lo vediamo Proprio In questa Immagine Nel retroscena Di Belotti 2022 Mentre la squadra Va a caccia Dell'Europa Arriva una splendida Notizia Per i tifosi E Toro E Gallo Hanno già Prolungato Di un altro anno Ed eccoci Ancora qui Pronti per continuare Questa rassegna Con una seconda parte Che riguarda Le testate locali Soprattutto Ciò che riguarda La regione Campania Con un focus E un'attenzione particolare Su Caserta La sua provincia Quindi Non andate via Io vi lascio A qualche momento Di pubblicità Ma mi raccomando Io resto qua Quindi Medita Kevri Mi raccomando 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 All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, ricordo sempre che è lunedì 6 maggio, siamo sempre in diretta per quanto riguarda la rassegna stampa, pronti a vedere i fatti che riguardano la regione Campania. E subito andiamo sulle prime pagine dei quotidiani online, andiamo a vedere che cosa racconta oggi il mattino e vediamo che si parte con la giornata di oggi dedicata da Salvini al mezzogiorno. Infatti lo sbarco nel mezzogiorno tra i mal di pancia del nord e infatti al nord delle Alpi la chiamano tra il serio e il faceto la terronizzazione della Lega. Mai più di una battuta all'interno del carroccio e fastidio per la strategia del capitano di investire politicamente sul sud, anche modificando quelle che sono le priorità strategiche del movimento nato nella prima repubblica per la liberazione del nord dal resto d'Italia. Racconta uno storico dirigente di via Bellerio, quel problema non è la secessione o la volontà di trasformarci in una forza nazionale perché l'anima autonomista ben si concilia con un federalismo più spinto come quello chiesto da Lombardia e Veneto. Il problema è che per rincorrere i voti al sud, da un lato si stanno seguendo politiche assistenzialistiche come il reddito di cittadinanza impensabili nel nostro DNA e che ci allontanano dalle imprese. Dall'altro, privi di radicamento, come siamo nel mezzogiorno, si sta imbarcando chiunque senza che da via Bellerio, visti gli statuti locali, ci possa essere un controllo su questo processo. Insomma, proteste e critiche per questo movimento, per questo modo di fare politica anche del primo, ovviamente di chi comunque detiene il primo posto nella Lega e sembra essere questo l'elemento che al momento determina qualche scalfitura proprio all'interno del partito. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano. Insigne è la vittoria dell'orgoglio, adesso in Napoli ritrovi la sua Napoli. E infatti Napoli si è svegliato dopo il gol dell'ex Pavoletti e ha ribaltato la partita contro il Cagliari con l'aiuto del VAR e di Insigne, che ha chiuso nel migliore dei modi la settimana del chiarimento con De Laurenti e Ancelotti. Il suo rigore al 98esimo, dopo le vibranti e proteste dei sardi, consegna agli azzurri la certezza del secondo posto. Insigne è tornato sul dischetto a quasi due mesi dal rigore fallito contro la Juve, quello che costò un pareggio simbolico il 3 marzo. Piombò in crisi dopo quell'errore, adombrando l'ipotesi di un divorzio, anche perché gli sarebbero stati poi i fischi al momento della sostituzione in Napoli-Arsenal. Ieri sera invece, soltanto applausi per lui, da un pubblico ridotto ma appassionato al fianco della squadra nella rimonta contro il Cagliari. Insomma, un rigore per cancellare i cattivi pensieri e ricominciare un rapporto che è stato l'annuncio di Ancelotti, dovrebbe andare avanti oltre il 2022 anno di scadenza dell'attuale contratto appunto di Lorenzo. E ancora vediamo le altre notizie, ci spostiamo appunto sulla cronaca, bimba ferita a Napoli, il video shock, il killer spara e passa sopra Noemi, come se non fosse nulla. E infatti muove la manina due volte, lì distesa a terra in un angolo di piazza nazionale, alza il braccio due volte, travolta da un colpo di pistola, mentre per ben due volte il killer le passa sopra. Immagini shock delle telecamere a circuito chiuso, quell'uomo nero con il casco e la pistola la scavalca per due volte mentre insegue il suo obiettivo. Salvatore Norcaro, 31 anni, poi mentre torna indietro ancora una volta saltando quel corpicino disteso al suolo. E vediamo, no questo lo evitiamo così, evitiamo proprio di creare problemi, ma sicuramente orrore a Napoli come emerge dal video pubblicato ieri sul mattino. Orrore per quella bambina che alza il braccio per due volte quasi a toccarsi la schiena dopo essere stata trafitta da un proiettile da guerra. La guerra che da troppi anni insanguina Napoli. Adesso, come vi abbiamo già detto durante questa rassegna stampa, la bambina è ancora in ospedale a Santo Bono, ancora le sue condizioni sono critiche, si spera ovviamente che vada tutto bene e ovviamente siamo tutti insieme a lei. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano da Napoli. Si parla questa volta di Stadio San Paolo, non per la partita di ieri con il Cagliari, ma per la vendita di Magistris, dice no al piano di governo, no ai privati. E infatti nessun rischio di privatizzazione per Stadio San Paolo dal Comune di Napoli allontanano l'ipotesi di trasformare lo stadio della città e di proprietà comunali in un impianto privato. Il progetto riconducibile al piano delle dismissioni inserito nell'ultimo DEF con l'obiettivo di tirare su entro fine anno quasi un miliardo di euro non riguarderebbe, attenzione, non riguarderebbe a Napoli soltanto lo stadio, ma anche altri gioielli di famiglie in una partnership pubblico privata su tutti l'albergo dei poveri, ma anche la piscina Scandone, le terme di Agnano e l'ippodromo. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano nella giornata di oggi, vediamo che cosa racconta Repubblica e vediamo un fatto gravissimo accaduto all'ospedale del mare, quattro ore in attesa, in barella un infarto ma nessuno lo visita, la moglie è infermiera, quando ho capito la gravità delle sue condizioni non ho avuto dubbi e ho portato io stessa a Pozzuoli. Qui non c'era posto, ora è ad Aversa, farò denuncia in procura. All'ospedale del mare gli assegnano infatti il codice giallo non urgente ma ha un infarto. E per quattro ore resta sulla barella senza essere visitato, ancora una storia di incuria e disorganizzazione, stavolta a rischiare il peggio è stato un uomo di 65 anni, Mosè Mingione, residente a Ischia e temporaneamente a Napoli. A raccontare il dramma per ora senza conseguenza è la moglie Carmela Fattorusso che in prima istanza si è rivolta al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, lei da 37 anni fa l'infermiera a Rizzoli dell'Isola Verde e quando ieri l'hanno avvertita il marrone del marito si è imbarcata sul primo alliscafo per raggiungerlo. Adesso è ad Aversa nella terapia intensiva, ultima tappa in un lungo iter. Qui gli hanno impiantato tre stent, permette prima di riannodare il filo del racconto partendo dal momento in cui riceve la telefonata a Ischia, dopodiché non si capisce più niente. Un codice giallo che comunque limita la forza di questa persona perché giustamente in codice giallo non c'è allarme, non c'è pericolo di vita e sicuramente non c'è la possibilità di essere visitati in tempo. Ma insomma una situazione che si presenta sempre più precaria, poca attenzione, poca attenzione per le persone. Vogliamo raccontare che forse ci sono pochi medici, vogliamo raccontare che ci sono pochi infermieri che sono stanchi sicuramente, ma la vita delle persone deve essere valutata in maniera differente. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ancora cronaca, disarmiamo Napoli, la città scende in piazza per dire no alla Camorra. Infami vediamo nella foto, centinaia di cittadini in corteo in piazza nazionale dove è stata ferita la piccola Noemi, centinaia di cittadini sul luogo dove è caduta la bimba con la rabbia di chi è stanco e ha una sola domanda. Ma da domani cambia qualcosa? Ore 11 in piazza nazionale, parola d'ordine, disarmiamo Napoli, tre giorni dopo l'agguato di Camorra con tre feriti in una zona popolare e in pieno pomeriggio, oltre al pregiudicato Salvatore Nurcaro in gravissime condizioni, le parole vaganti colpiscono le due innocenti, la bimba di quattro anni che lotta per la vita, Santo Bono e sua nonna di 50 anni. E la città scende in piazza perché non vuole più che si ripetano situazioni del genere, già ne sono due, già sono queste determinanti di una situazione sempre più grave. E ancora vediamo intanto che la bambina ferita a Napoli è stabile ed è stata visitata da Fico. I medici non è stato intaccato il midollo, c'è ancora una grave insufficienza respiratoria e infatti si presentano ancora critiche le condizioni della bimba ma sono mantenute stabili e ovviamente la piccola ha ricevuto la visita a sorpresa del presidente della Camera Roberto Fico che ha incontrato i medici all'ospedale pediatrico Santo Bono e i familiari della piccola driblando ovviamente giornalisti e cineoperatori. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo a Caserta dove vediamo che c'è una notizia di cronaca in primo piano per una pizzeria della città. Vandalizzata è infatti la pizzeria di Martucci, lo sfogo del noto pizzaiolo dopo il raid subito nel suo locale. Vediamo la foto del pizzaiolo. Hanno distrutto tre scarichi dei WC, due coprivate, rubato persino le targhe all'ingresso dei gabinetti e quanto messo in atto dai vandali che ieri sera hanno colpito all'interno dei Masanieli e la notta pizzeria di Francesco Martucci, diventato ormai una star a livello italiano nell'arte della pizza. Raccontare l'episodio è stato proprio Martucci. Nei bagni del mio locale ci sono tutti i comfort, persino il colluttorio per il benessere comune di tutti i clienti. Mi da trista vedere a fine serata sfasciati tre scarichi e due coprivate per non parlare delle targhe WC rubate e dei copri meccanismi sempre rubati. Io lo faccio per voi amici miei e non credo che sia giusto rompere e rubare un servizio comune. E infatti lo racconta dalla sua pagina Facebook. Vediamo le immagini e quanto in realtà è accaduto. E ancora continuiamo a vedere la cronaca nella prima pagina di Caserta News. Rissa durante la partita, ha ferito un minorenne e botte durante la partita Under-17, sul posto è intervenuta la polizia. Ed eccoci qua, è accaduto a Castelvortuno durante la partita tra Domiziana Club e Socio Macerata di Macerata Campania è scoppiato un acceso di verbio tra i giocatori categorie Under-17 in campo e alcune persone delle panchine e dall'esterno del terreno di gioco. Gli animi erano accesi appunto che c'è stata un'invasione del rettangolo verde che non è degenerata solo grazie al tempestivo intervento del lavorante del commissariato di Castelvortuno che ha sedato gli animi prima che scoppiasse il putiferio. Nella rissa a fare le spese è stato un minorenne che è stato trasportato presso la clinica Pineta Grande. Secondo il referto ha riportato ferite lievi e molte escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni di prognosi. Insomma lo sport quando diventa qualcosa di irreale perché questo è irreale, la violenza che invade appunto i luoghi sportivi, quelli dove si dovrebbe giocare con un sorriso a pieno volto, dove si dovrebbe vincere qualsiasi cosa ma non con la violenza ma semplicemente con la forza d'animo e la capacità di saper giocare. Insomma lo sport troppo spesso viene utilizzato per sfogare i propri istinti. Cosa ben diversa invece è accaduta ieri alle ragazze della Golden Tulip Volalto 2.0 di Caserta che a Trento ha stravinto contro la squadra di casa e si è portata a pieno titolo verso le finali in dirittura d'arrivo verso quelle che sono le partite per la Serie A. Vediamo subito in questa foto le ragazze insieme al Presidente e a tutto lo staff in un sorriso strepitoso e vediamo che cosa è accaduto. La Golden Tulip Volalto 2.0 entra nella storia della pallavolo e conquista la finale. La società è partita da zero con poca esperienza nel mondo del volley ma è riuscita a mettere in fila tutti. Scrivendo una pagina di storia della pallavolo italiana le rosa nera di patron Nicola Turco strappano applausi contro la Delta Informatica Trentino, vincono infatti per 3-1 in trasferta e da domenica prossima si giocheranno l'accesso in Serie A1 contro la Zambelli Orvieto. Infatti l'appuntamento è al Palavignola alle 17 domenica prossima per questa nuova sfida della Volalto e noi ci auguriamo che siano tutti i pronti a lottare ma soprattutto a farlo con tanto spirito di squadra come sempre. E anche per questa mattina la rassegna stampa termina qui a voi tutti un grazie per aver scelto Teleprima aver scelto di seguire questa rassegna stampa e soprattutto l'augurio di una splendida giornata. Come sempre prima di lasciarvi ringrazio Tecnocampus che ci offre la possibilità di darvi l'informazione in tempo reale e soprattutto di commentarla insieme. Buona giornata a tutti, ci vediamo domani. www.tecnocampus.it Grazie per la visione!